Biologico Se la scelta di produrre il formaggio biologico è stata un infortunato incontro con il produttore del latte biologico, poi nel lungo periodo la nostra azienda ha deciso di aderire a questa particolare filosofia di lavorazione per condizione personale, perché siamo convinti che se tutti producessero biologico il nostro mondo e il nostro pianeta sarebbe sicuramente in condizioni migliori e quindi invitiamo comunque tutti a consumare prodotti biologici proprio per Gourmitpedia è un'Italian food encyclopedia made by Gourmit, a consortium di italiani producers. See you next time!